Ti sei fatto un'idea sugli scudetti, per te sono 28 o 30 quelli che ha la Juventus? Io penso che è la stessa idea che ha detto il Presidente. Dovresti fare un gol all'Inter, esulterai? Come ha detto prima, adesso defendo la Juve e la mia squadra e sicuramente per me è una situazione normale e esulterai se non è un problema.